La BCC Buccino Comuni Cilentani pronta per le nuove sfide del sistema bancario 4.0 e per affiancare il territorio nei processi di trasformazione digitale. Sarà questo il tema centrale dei lavori dell'Assemblea Generale dei Soci della BCC Buccino Comuni Cilentani, che si svolgerà domenica 12 maggio alle ore 10 presso l'hotel L'Araba Fenicia in Altavilla Silentina. Il piano nazionale Impresa 4.0, già Industria 4.0, definisce le linee guide per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale. Il piano prevede misure concrete in base a tre principali linee strategiche, operare in una logica di neutralità tecnologica, intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali, agire su fattori abilitanti. Le fabbriche sono sempre più digitali e interconnesse. La quarta rivoluzione industriale è cominciata anche in Italia, secondo paese manifatturiero d'Europa. L'Industria 4.0 scaturisce dalla quarta rivoluzione industriale il processo che porterà alla produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa. In questo scenario il sistema bancario è chiamato a sostenere la trasformazione digitale del proprio territorio di competenza e sostenere lo sviluppo di nuovi modelli di business. La banca cambia, divenendo sempre più partner di servizi e abilitatore di business, con un'offerta innovativa sempre più vicina e semplificata per le famiglie, i giovani, le imprese, promuovendo uno sviluppo sostenibile. Come ogni cambiamento, anche la quarta rivoluzione industriale va affrontata e trasformata in un'occasione di crescita, come i cambiamenti che hanno attraversato recentemente il credito cooperativo, ad oggi la prima banca locale del paese.